Abbiamo lavorato molto sul tema dell'occupazione, tagliando ulteriormente la tassazione sul lavoro, incentivando le nuove assunzioni e rivedendo il reddito di cittadinanza. Nel senso di dire che dalla fine di quest'anno chi può lavorare, lavora. E noi faremo tutto il possibile per mettere quelle persone in condizione di lavorare, favorendo la crescita, favorendo le nuove assunzioni, incentivando le nuove assunzioni, anche con meccanismi che aiutano i percettori di reddito di cittadinanza che sono in condizione di lavorare. Ma altra cosa è sentirsi dire, come io ho sentito dire da alcuni nelle interviste televisive, la Meloni mi toglie il reddito e vuole mandarmi a rubare. Tra il reddito di cittadinanza e rubare c'è prima l'opzione di andare a lavorare, signori. Grazie a tutti.